Stroncata una delle più vaste organizzazioni criminali attive nel traffico di vite umane tra Grecia, Albania e Italia, con 22 arresti e 52 indagati. Le indagini sono partite da uno sbarco di 32 migranti sulle coste di San Cataldo, avvenuto il 23 aprile 2020 in pieno lockdown, raccogliendo le prime informazioni con il Polo Antimigrazione di Lecce. Beh, è stato un ruolo, soprattutto nelle prime fasi, determinante perché ci ha consentito di capire che c'era una regia unica nell'ambito di questi traffici. Dalle prime dichiarazioni dei migranti abbandonati, la Didia di Lecce ha avviato le indagini svolte dal GICO e dallo SCICO. C'è chi partiva dalla Grecia e arrivava direttamente in Italia o chi faceva scala in Albania. Dall'Italia poi l'organizzazione provvedeva ad offrire il trasferimento presso altri paesi del nord Europa. I migranti arrivavano a pagare fino a 10.000 euro a viaggio. L'entità dei flussi migratori sono sotto gli occhi di tutti e i prezzi che venivano pagati dai singoli migranti oscillavano dal 6 e agli 10.000 euro. Dal punto di vista geografico le coste salentine sono strategiche come porta d'ingresso dal Medio Oriente verso gli altri stati che sono poi il luogo di destinazione dei flussi migratori che abbiamo intercettato. Quattro gruppi in collaborazione fra loro. Il primo aveva base a Bari dove sono stati eseguiti cinque arresti. I presunti scafisti venivano aiutati a fuggire alla cattura. L'altro gruppo era costituito da due fratelli veneti che agivano sotto falso nome e si occupavano del proseguo dei viaggi dei migranti. Il terzo gruppo aveva base in Albania e il quarto in Turchia e si occupavano del trasferimento dei migranti verso le coste salentine e calabresi. L'operazione Astrolabio rappresenta gli insegnamenti di Giovanni Falcone che nel 1992 dopo la strage di Capaci chiese un impegno globale nella lotta alla criminalità organizzata. Le indagini sono ancora in corso? Ci sono altre organizzazioni sotto controllo? Sono in corso approfondimenti su questa organizzazione. Grazie a tutti.